Buongiorno Massimo Brandi, sono circa 40 anni che lavoro in ambito marittimo, ho fatto per 38 anni il terminalista, poi sono 2-3 anni che invece mi occupo anche di parte agenzia marittima. Il nostro gruppo Medov è inserito in un contesto più ampio di una finanziaria che si chiama IEL di circa 300 dipendenti, la parte agenzia marittima Medov è un gruppo di 90 persone con circa divisi in 6-7 società. Ci occupiamo di IOT, di agenzia navi crociere, di Shorex, cioè la parte Turo Pereto, la servizio di navi crociere e rappresentiamo anche navi da carico, RORO, Traghetti e Dry Cargo, oltre che un settore specifico, una parte tanker. In questo ultimo anno abbiamo avuto un turnover di personale molto forte perché dopo la pandemia tutte le aziende erano sostanzialmente organici zero, quindi si è trattato di rimpolpare gli organici e soprattutto di sostituire quelli che venivano presi dalle altre aziende perché devo dire che nel nostro settore ce li siamo rubati l'uno con l'altro. Il materiale umano in questo momento è ambitissimo, tutti in tutte le nostre città del gruppo stiamo cercando persone, molto difficile trovarle perché poi molto spesso il nostro settore magari non coincide con quelle che sono le aspettative di vita delle persone, però sicuramente è un settore che può dare delle soddisfazioni e può dare anche un'occupazione a tempo molto lungo e indeterminato e soprattutto per prospettive di carriera assolutamente non banali, cioè la crescita professionale all'interno di gruppi come il nostro, non siamo l'unico che opera a Genova, è sicuramente interessante ed è quasi limitata da un certo punto di vista, si può sicuramente sempre crescere in qualche forma, in qualche settore collaterale.